Amici di Gruppo Carmeli ben ritrovati, sono Marco Ferrari e oggi andremo a conoscere nel dettaglio un'altra imperdibile occasione che potete trovare nelle nostre sedi Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, Brescia, Curno, Bergamo oppure dove mi trovo ora a Coccaglio nel nuovo centro Outlet Multimarca usato di Gruppo Carmeli. Oggi parleremo della Jeep Compass Km Zero. Possiamo notare come la nostra Jeep Compass riesca a mantenere uno stile elegante, sportivo e off-road nonostante i suoi 439 cm di lunghezza grazie al frontale alto ma alleggerito dalla stretta mascherina che ha 7 feritoie verticali. Le linee della nostra Jeep Compass sono ammorbidite grazie al profilo cromato che collega finestrini e lunotto posteriore. Inoltre è giusto sapere che è disponibile anche in diverse colorazioni. Lo stile Jeep è anche e soprattutto riconoscibile negli interni della nostra auto che andiamo a vedere insieme. Il volante, gli schermi, il tachimetro, il climatizzatore e la leva del cambio sono tutti ordinati secondo un'ottica armoniosa e fluida per chi lo osserva. Infatti possiamo passare comodamente dal nostro schermo TFT da 7 pollici situato fra tachimetro e contagiri al nostro schermo optional radio da 8,4 pollici. Ovviamente non può mancare lo spazio, infatti si può stare comodamente in 5 grazie ai nuovi sedili ridisegnati secondo un'ottica di comodità. Spazio che non manca nemmeno nel bagagliaio dove abbiamo 438 litri a disposizione per caricare tutto il necessario anche per un viaggio di lunga durata. La Jeep Compass è avanti anche nell'infotainment. Grazie allo schermo da 8,4 pollici abbiamo il pieno controllo delle funzioni dell'auto e possiamo consultare le mappe per la navigazione in modo semplice e chiaro. Ma non è finita qui perché alla base del poggio a gommite centrale troviamo delle prese USB per caricare i telefoni comodamente, comodo sia per chi viaggia davanti sia per chi sta dietro. Ovviamente la nostra guida sarà completamente sicura grazie alla presenza di 6 airbag, posti frontalmente, lateralmente e a tendina. Sicurezza che è garantita grazie anche al rilevatore di stanchezza che ci segnala se per caso stiamo cominciando a perdere il polso sul veicolo e anche grazie alla frenata d'emergenza automatica che riconosce la presenza improvvisa di pedoni ciclisti. Inoltre non possono mancare i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera, il park assist automatico optional, ma qui presente, e il cruise control. Il motore 1.3 benzina con 130 cavalli di potenza ci permette di avere una guida sicura, rapida e maneggevole in ogni situazione, ovviamente anche fuori città. Potete venire a vederla in totale sicurezza di persona nelle nostre sedi outlet multimarca di gruppo Carmelia, San Zeno Naviglio, Brescia, Curno, Bergamo oppure dove sono adesso a Coccaglio nel nuovo centro outlet multimarca e usato dove potete trovare tantissime altre occasioni aziendali o a chilometro zero. Non esitate a contattarci al numero 030 77 24 011 oppure visitate il nostro sito www.gruppocarmeli.com. Vi aspetto nel prossimo video.